Siamo Stefano Trovato, Presidente della Cooperativa Sociale Irizola Aurora e faccio anche educatore interna della cooperativa in una comunità terapeutica. Bene, perché hai scelto i processi partecipativi per la tua cooperativa? Lo abbiamo scelto perché noi siamo una cooperativa distribuita in tutta la regione e pensavamo, pensiamo che poteva essere utile adottare nuove metodologie per il confronto interno alla cooperativa. L'occasione di redare un nuovo documento fondante nel programma terapeutico delle comunità ci sembrava appunto l'occasione giusta, migliore, per sperimentare nuove metodologie. Bene, grazie e buon lavoro. Anche a voi, ciao.